ecco come promesso vediamo un po' come metto in interfaccia utente delle immagini quindi avendo delle immagini di Leonardo la prima cosa da fare è importare queste immagini adesso ne importerò queste 4 e per farlo praticamente è sufficiente prendere il progetto andare nella cartella in questo caso video 2 UI component e ci mettiamo uno per ciascuno i nostri immagini quindi abbiamo semplicemente con il trascinamento abbiamo le immagini tutte trascinate e la cosa interessante è che intanto si vede una specie di preview ma se andiamo in modalità un pochino più ampia si vede anche l'immagine che è molto comoda ora queste sono delle immagini le vediamo qua default per poterle usare effettivamente all'interno della GUI cioè della nostra GUI dobbiamo trasformarle in maniera adeguata quindi come si fa? basta andare adesso vediamo se ce la fa fare tutte insieme quindi prendiamo uno control click, control click, control click e il texture type lo facciamo sprite 2D e UI vedete che è UI quindi facendo UI così ce le trasforma in modo tale da poterle usare nelle UI quindi facciamo apply allora quello che succede è che vedete che le immagini non sono più normali ma hanno questo triangolino allora quando hanno questo triangolino adesso non è detto che sia sempre così ma in questo caso vuol dire che sono state trasformate in modo tale da poter essere usate in una GUI allora come facciamo a mettere in una GUI? semplice andiamo nella nostra bottoniera e nella nostra bottoniera creiamo un GUI e una immagine l'immagine vedete che ce l'ha messa qui noi l'immagine la possiamo spostare e possiamo mettere praticamente ad esempio qua e magari anche in prossimità del bottone 1 e questa immagine la se vogliamo proprio che sia una parte del bottone 1 potremmo metterla praticamente sotto bottone 1 quindi proprio questa immagine la mettiamo sotto qua vedete sotto bottone 1 qui non cambia niente salvo il fatto che è figlia il bottone 1 ah tra l'altro ecco qui mi sbaglio sempre perché eravamo in play dalla volta prima invece ricordate che ogni volta che fate delle modifiche dovete sempre non essere in modifiche perché altrimenti perdete tutto non tanto la composizione dell'immagine qua sopra ma la struttura viene persa quindi CTRL S dobbiamo rifare e mettere un'immagine quindi allora torniamo a questo punto facciamo che farla già solo bitofiglia di bottone 1 quindi clicchiamo bottone 1 facciamo UI e creiamo una image qua sotto vedete che l'ha messa già direttamente vicino al bottone 1 e poi qui nell'immagine dobbiamo mettere vedete qui c'è source image questa è l'immagine e ci mettiamo ad esempio questa immagine qua quindi la trasciniamo e vedete che abbiamo l'immagine associata a 1 poi andiamo nel bottone 2 facciamo lo stesso mestiere quindi UI image ci mettiamo questa altra immagine la spostiamo un pochino sopra bottone 3 creiamo uguale l'alziamo e ci mettiamo questo e poi andiamo bottone 4 facciamo ancora UI facciamo image l'alziamo un pochino e ci mettiamo l'ultima immagine ok allora adesso ci accertiamo vediamo un po' come funziona nel senso che facciamo il play quindi facciamo ctrl s play avendo fatto ctrl s play ok quello che succede è che possiamo cliccare il pulsante vedete però essendo che è figlio del pulsante anche l'immagine possiamo in teoria cliccare anche sull'immagine quindi questa è una cosa interessante che ci servirà e quindi vedete che abbiamo potuto fare un'interfaccia utente già raffinata in cui ci sono sia delle cose grafiche che delle cose testuali dei bottoni e delle cose testuali dove c'è la domanda quindi volendo qui si potrebbe fare in modo tale che il testo questo lo mettiamo in alto diciamo selezioniamo tutti questi oggetti qua lo abbassiamo per farlo stare nella canva eventualmente possiamo mettere anche centrato e qua gli mettiamo il testo del quiz quindi questo qui è quiz ad esempio quiz e nel quiz ci mettiamo quindi usiamo sempre la tecnica di continuare a cliccare finché non ci rimane non ci selezioniamo il cosa quindi qua mettiamo in quale di questi quadri è stato composto adesso l'invento nel 1604 punto interrogativo quindi questo diventerebbe una sorta di quiz abbiamo commesso di nuovo lo stesso errore di prima nel senso che eravamo in play quindi se togliamo vedete che ci ha perso tutto quindi dobbiamo rifare di nuovo tutto quindi prendiamo di nuovo questo lo mettiamo in cima selezioniamo di nuovo tutto lo abbassiamo e lo spostiamo a destra e come vedete adesso abbiamo sempre il nostro e adesso si mancava il testo del quiz ma me lo sono copiato quindi facciamo ctrl v ok e quindi adesso abbiamo il nostro quiz effettivamente impostato giusto per finire proviamo a vedere qualche altro elemento che si potrebbe mettere per esempio si può mettere come UI anche un toggle toggle sono delle cose che vedete che sono dei tastini di questo tipo che nei quiz magari hanno poco senso ma potrebbe essere un toggle che dice toggle vuol dire pulsante cliccabile che c'è anche lui la sua label e anche qua basta cliccarlo per arrivare al nome e quindi qui ad esempio si dice non so diciamo prima del 600 l'invento quindi potete mettere una cosa in cui eventualmente potete chiedere a chi usa questo gioco insomma di cliccare o meno qua con dei toggle oppure possiamo anche mettere degli UI quindi abbiamo visto il toggle e degli slider gli slider sono interessanti e sono questi oggettini qua vedete che possono essere praticamente li vediamo in ctrl s facciamo play sono delle cose che possono avere dei valori associati nel senso che posso praticamente spostarli e se andiamo a vedere lo slider vedete che c'è un valore minimo 0 massimo valore 1 e in teoria dovrebbe anche avere praticamente il valore corrente che lo vedete qua 0,57 eccetera quindi si può praticamente inserire anche questi elementi ecco qui ricordatevi sempre di stoppare e di allineare e poi mettiamo vediamo un po' quali altri UI oltre allo slider c'è una scroll bar che sarà per fare delle cose ma io non entrerei in dettaglio forse l'unica cosa che potrei dirvi è l'input field l'input field è un campo che l'utente potrebbe scriverci sopra qualcosa vedete enter text quindi potete magari invece di dirgli di cliccare su un bottone di rispondere proprio fisicamente qua dentro e qui qua invece che enter text gli mettiamo sempre cliccando vabbè in realtà l'enter text non so bene come cambiargli questa cosa lo vado poi perché enter text è ovviamente in inglese ma se qui gli metto un valore iniziale questo qui sarà il valore iniziale ma non l'ha sostituito ora magari poi nel prossimo video cercherò anche di dirvi come fare per modificare questo questo enter text ma nel frattempo avete visto che possiamo costruirci un pannello complesso piacere con immagini possiamo metterci questi oggetti slider eccetera e degli input test e anche altre cose che per semplicità non vi ho fatto vedere quindi credo che super giù la base base per fare l'interfaccia utente dovreste avercela quindi ci vediamo nel prossimo video in cui vediamo un po' di attivare il quiz di fare in modo tale che ci risponda corretto o no